Io non so cosa sia la democrazia nella mia ignoranza, ma certamente andare a spiegare la liberal democrazia occidentale ai cinesi mi sembra complicato, così, a occhio. Quello che dobbiamo capire è che la democrazia è uno dei, quello che noi chiamiamo democrazia, che nel frattempo è diventata post-democrazia, per cui è comunque sia una risorsa geograficamente, storicamente, politicamente determinata. L'espansione della democrazia a tutto il mondo o è un auspicio, però qui siamo nella povertà intellettuale, cioè, va bene, io auspico che ci vogliamo tutti bene, perfetto. Oppure vuol dire fare la guerra per esportare la democrazia. Francamente, non mi sembra in modo migliore. Certamente è stato fatto, io mi ricordo, la Condolisa Rice, il segretario di Stato, che aveva un dottorato in scienze politiche in California, che il cielo la perdoni, che ha scritto, ma sul Cogliere della Sera, dice, beh, ma abbiamo fatto diventare democratica la Germania, faremo diventare democratico anche l'Iraq. Che vuol dire? La storia non esiste. Non esiste la storia. La Germania era democratica fino al 1933. L'Iraq, giustamente, non sa nemmeno che cosa sia la democrazia. Per cui, se tu puoi bombardare l'Iraq fino a fargli mettere un buco al posto dell'Iraq, ma non troverai la democrazia. Non mi risulta che l'Iraq sia un paese democratico oggi, così a occhio. La Germania, a occhio, sì. Ecco. Perché la differenza non è di razza e di religione, è di storia. Ma se tu fai i dottorati di scienza politica in California, non te lo dicono. Tutto lì. E con questo ho risposto. Quanto al cinismo, io non so che cosa voglia dire, forse non lo sa neanche lei. Ma va bene lo stesso. Quello che è successo nell'89-91 è stato interpretato come la vittoria della democrazia. Ma non è vero! Era la vittoria del capitalismo. Tant'è vero che l'impresa più di successo è stata, che è diventata capitalistica, in realtà era partita prima, poi si era fermata. La Cina, che non è stata coinvolta da alcun crollo, che, insomma, proprio democratica, democratica, non è, anche se il potere politico cinese deve rendere conto al popolo, perché non è che sono matti. Però, certo, attraverso vie che non sono quelle che noi chiamiamo democratici. E ha vinto il capitalismo. Anche perché l'economia di comando funzionava in modo così, pazzescamente sbagliato, che è già molto che sia durata, tanto che c'è la tesi che Hitler abbia allungato la vita all'Unione Sovietica con la cosa, col plusvalore politico che ha conferito all'Urs con la vittoria. L'idea dell'ondata di democratizzazione, ma fa ridere, ma fa ridere, ma da quando in qua? Non ci sono ondate di democratizzazione da una parte, dall'altra. Le democrazie occidentali, beh, insomma, voglio dire, perfino una persona come Prodi, che non è certo un estremista, dice che la nostra democrazia è veramente in affanno. È veramente in affanno. Ora, io non so, uno non pretende di vivere nell'Atene di Pericle, che poi chissà cos'era, ma certamente, certamente, anche solo nella mia breve vita, è cambiato qualcosa. Ecco, è cambiato. Posso dire di aver visto una restrizione degli ambiti delle libertà individuali, un impoverimento dell'ambito pubblico, una chiusura dello spirito, un conformismo crescente, uno sfilacciamento dello spirito pubblico, un crollo del legame sociale. Ma ci abbiamo, cioè, qui usciranno 100 libri sulla crisi della democrazia all'anno, va bene? O è vietato, è antidemocratico parlare, è cinico parlare della crisi della democrazia. Eh, io, tutti i miei colleghi, io ne ho scritto uno, ne sto scrivendo un altro, sarò super cinico, ma insomma, tutti i miei colleghi scrivono libri sulla crisi della democrazia. C'è solo lei che ci crede. Bene, mi fa piacere, non si sa in che cosa lei creda, perché crede in qualche cosa che non c'è. bene, ecco. Diciamo che se dovessi definire il regime nel quale viviamo oggi, direi, ma, oligarchia eterodiretta, con verniciatura di qualche teorema democratico, verniciatura. ma lo lasciamo perdere. Sì, quello, chi ha vinto nell'89, non è stata la democrazia, ma certo, se uno vede i paesi dell'Europa orientale, ma, anche lì, erano, è un episodio di minoranza, quello, è un episodio di minoranza, da parte che alcuni non sono diventati poi sto fiori di democrazia, cioè l'Ungheria, da cui è partito il voto con i piedi nell'estate del 1989, non è che si è diventato sto posto, sto fiori di democrazia, è che è semplicemente crollato un regime che era miracoloso, stava in piedi per miracolo. Tutto lì. Poi noi possiamo dire che era la fine della storia, possiamo dire quel che ci pare, tanto le cose vanno avanti lo stesso. Come diceva uno, la verità si vendica. Poi puoi dire tutte le bugie che vuoi, poi la verità si vendica. Non è finita la storia, non ha trionfato la democrazia, adesso tutti i grandi teorici della democrazia ci mettono di fianco con l'aggettivo occidentale, dicono che bisogna prepararsi a decenni di guerra fredda. Tutto sto pacifismo non lo vedo. Democrazia uguale pace mi sa che non è vero. Ce ne siamo accorti, vero? Ci stanno preparando a vivere in una caserma futura, dove ci sarà sempre meno libertà, dove capire sarà sempre più tradire. Chiunque dica qualche cosa di diverso sarà putinista. Oh, io carriera l'ho già fatta. Faccio valere i privilegi dell'anzianità. La pensione non me la tolgo, non spero. Bene, allora, se non ci sono altre questioni, la terza e ultima fase sarà il giorno, credo, 4 aprile, in cui verrà presentata una cosa nuova, cioè la prima traduzione italiana integrale del De Iure Belliac Pacis di Grozio, che era l'ultimo grande testo della modernità che mancava nella lingua italiana, dove vedremo che c'è una posizione intermedia fra la posizione di Vittoria che è oggettiva, la posizione di Hobbes che è soggettiva, e c'è questa posizione intermedia che è tanto piacque a tanti fin da subito che in Grozio diventò un veicolo di diffusione di un tipo di diritto naturale sostanzialmente soggettivo, anche se lui si sforza di dirlo in modo un po' diverso ma è sostanzialmente quello, fin da subito elevato da Puffendorffa maestro del diritto internazionale e beniamino della cultura politologica e giuridico internazionalistica anglosassone.